La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, un lavoro che troppo spesso è causa di morti, infortuni e malattie professionali. Da inizio anno in Basilicata sono ormai quattro gli incidenti mortali. L'ultimo venerdì tra Ruvo del Monte e San Fele a perdere la vita l'autista di un camion di ginestra di 53 anni. Nonostante gli infortuni tra gennaio e marzo 2024 siano in diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 917 contro 992, la cultura della sicurezza resta un obiettivo lontano. Tanto lontano che l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Fra Laboratori Mutilati e Invalidi, da anni si batte affinché il testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del 1965 venga aggiornato al mutato contesto economico e sociale. Non solo, secondo l'Associazione è necessario anche un investimento da parte dell'INAIL. Sulla formazione si potrebbe giocare un ruolo importante, l'altro ruolo è ridare dignità a quelle famiglie e quei lavoratori che purtroppo per il lavoro sono rimasti invalidi oppure purtroppo vedove. Intanto il gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro ha individuato in cinque regioni del sud, tra cui la nostra, una percentuale del 36% di occupati irregolari e del 15% di quelli in nero. La Basilicata, come anche altri territori, sono davvero particolari, sono territori difficili, difficili anche sotto l'aspetto dei controlli, perché si parla della piccola e media impresa, si parla di pezzature di terreni molto piccoli, quindi anche se noi aumentiamo gli ispettori, li raddoppiamo, noi dobbiamo cercare invece di far cambiare la cultura dei lavoratori e del datore di lavoro. Grazie a tutti.